ciao a tutti e benvenuti allo Asafat Malika oggi vi faccio un piatto tradizionale marocchino con le entecchie, il pollo e il pane in padella con la spirulina veramente la fine del mondo e spero che vi piace se vi interessa state con me fino alla fine ingredienti un cucchiaio grande di sale un cucchiaio piccolo di zenzero un cucchiaio piccolo di curcuma un cucchiaio piccolo di comino cucchiaio piccolo di paprika dolce 4 cucchiaie di olio d'oliva extravergine 3 spicchi d'aglio 3 cipolla trittate un po di coriandolo 4 foglie di alloro un pollo di un chilo e 700 grammi l'aceto 2 litri d'acqua 400 grammi di lenticchie lenticchie l'ho già lavata asciutta l'ho messo nella ciotola il tigame apro il tigame mescolo e spezie metto la metà di spezie nel tigame aggiungo coriandolo e cipolla e aglio e alloro aggiungo lenticchie metto il pollo ci metto i spezie sopra aggiungo l'acqua quando finisco di mettere l'acqua nel tigame aggiungo olio d'oliva extravergine copro il tigame con il coperchio lo porto sul fuoco un'ora sul fuoco lento un'ora ho lasciato il mio tigame sul fuoco lento un'ora ho già detto ingredienti per fare il pane in padella con la spirolina un cucchiaio grande di sale 5 grammi di levito l'acqua quanto basta un chilo di farina un cucchiaio e mezzo della spirolina vi faccio vedere l'ingrediente per il pane con la spirolina come l'ho fatto e come l'ho preparato vi lascio il link di un video sotto così andate a vedere ho fatto un po' questo nella farina aggiungo un cucchiaio e mezzo della spirolina mescolo aggiungo l'acqua mescolo bene e poi aggiungo levito con il sale se volete a vedere come l'ho fatto andate a vedere il video vi lascio il link sotto ecco il mio pane in padella con la spirolina è pronto veramente la fine del mondo e salutare che vi da una carica non vi puoi immaginare taglio una così vedete dentro tutto sfogliato come la pasta sfoglia prendo il mio pane lo taglio a pizzittini piccoli nel piatto come vedete continuo così finché non taglio tutto il pane a pizzittini ecco il mio pane in padella tagliato bene ci faccio un buco e mezzo come vedete nel video il mio pollo con lentecchie è pronto apro il tigami come vi ho detto ho preso il pollo l'ho messo sul pane ci metto il brodo di pollo con lentecchie intorno come vedete nel video ecco il mio piatto marocchino tradizionale e pronto con la spirolina veramente la fine del mondo e spero che vi piace se vi piace mi fate like condividete vi iscrivete a domani un altro video nuovo ciao arrivederci grazie mille di tutto ciao 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 ciao